Musica In occasione dei 30 anni dalla nascita del 118, il presidio ospedaliero di Gubbio e Gualdotadino ci ha aperto le sue porte e mostrato cosa accade al pronto soccorso quando si attiva il servizio di emergenza. La prima fase è quella gestita dal personale del 118 attraverso l'ambulanza. Eccoci siamo di fronte al mezzo ambulanza e presentiamo l'equipaggio, come è strutturato un equipaggio di 118. L'equipaggio è strutturato e composto da un autista soccorritore, da un infermiere di 118, più o meno un medico in base al codice colore. La presenza o meno del medico nell'equipaggio viene decisa dal centrale operativa che accoglie la chiamata e che chiama e ci comunica l'evento e ci dice se in quell'evento deve essere presente o meno anche l'equip medica. L'autista soccorritore è una figura importantissima, adesso gli lascerò la parola, perché non è soltanto un autista ma anche un tecnico che si occupa sia del mezzo ma anche che partecipa attivamente nel soccorso. Quindi è personale che è stato formato con dei percorsi dedicati sia sul trauma che nelle emergenze non traumatiche per partecipare attivamente nel soccorso. In questo caso è Luca il nostro autista di questa mattina. Nel corso del tempo questa figura ha raggiunto un livello un pochino più avanzato perché comunque sia siamo parte attiva del soccorso e quindi nel corso del tempo appunto la formazione è aumentata non solo di carattere tecnico, pratico per quanto riguarda la guida e la gestione del mezzo ma anche proprio di carattere sanitario in quanto partecipiamo alla rianimazione cardiopolmonare, a tutte le varie fasi di estricazione nei traumi maggiori. Insomma in tutte comunque sia ci spalleggiamo a fianco degli infermieri e dei medici in tutti i soccorsi. Che tipo di attività svolge l'autista soccorritore? Allora nello specifico ad inizio turno chiaramente noi essendo responsabili e comunque sia gestori del mezzo inteso come veicolo abbiamo appunto la fase di controllo del veicolo stesso. Quindi ad inizio turno andiamo a controllare tutti i livelli di carburante, olio e tutti i vari livelli insomma del motore la prova di accensione, tutto il funzionamento delle luci, sirene, lampeggianti per far sì che il mezzo sia efficace ed efficiente e che non crea i problemi chiaramente durante il soccorso. Poi nello specifico andiamo a controllare tutti i livelli delle bombole d'ossigeno che chiaramente devono essere sempre presenti e fornite. Andiamo a controllare tutti quelli che sono i vari presidi di immobilizzazione quindi collari cervicali, le tavoli spinali, barelle cucchiaio tutti quelli che sono appunto tutti i dispositivi di immobilizzazione e trasporto dei pazienti traumatizzati e chiaramente il controllo della barella autocaricante dove vengono caricati tutti i pazienti. In più abbiamo il controllo anche della funzionalità della radio, ricettrasmittente e del tablet che sono dei sistemi di localizzazione e trasmissione dati anche per metterci in contatto con la centrale operativa qualora i sistemi di telefonia non funzionano oppure in territori impervi non hanno un segnale. Che cosa c'è dentro un'ambulanza? Ecco, benvenuti all'interno di un'ambulanza avanzata, di un soccorso avanzato beh, diciamo, come vedete lo spazio è angusto ma è lo spazio necessario per effettuare le principali manovre rianimatorie e anche e soprattutto stabilizzare un paziente critico. Possiamo iniziare proprio dagli zaini che sono la base vera della rianimazione della stabilizzazione, del monitoraggio del paziente. Abbiamo uno zaino necessario per tutte le medicazioni necessarie quindi magari fratture esposte o quant'altro, medicazioni da fare in prima fase. Abbiamo un altro zaino contenente tutti i dispositivi per la gestione delle vie aeree quindi la somministrazione d'ossigeno fino all'intubazione vera e propria del paziente. Abbiamo un terzo zaino proprio predisposto esclusivamente per il pediatrico quindi bambini sotto, diciamo, i 14 anni necessitano di uno zaino speciale perché hanno dei presidi e delle strumentazioni proprio ad hoc. Inoltre, infine, abbiamo lo zaino, diciamo, il più utilizzato che è questo qui, proprio sulla barella. Che possiamo anche aprire. Lo apriamo insieme. Che cosa contiene? Beh, principalmente è la base necessaria per un minimo intervento. All'interno possiamo trovare la sacca dei parametri vitali quindi possiamo monitorare la pressione arteriosa, la saturazione, la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e la glicemia. Inoltre abbiamo anche tutto un set di infusione e di liquidi quindi possiamo prendere un accesso venoso più o meno grande di calibro e infondere i principali liquidi. Non solo zaini ma anche macchinari veri e propri? Assolutamente sì. Anzi, punto cardine dell'ambulanza e del soccorso avanzato è il nostro defibrillatore. Ne esistono di tante categorie, di tanti modelli. La Slumbria 1 ha, diciamo, scelto questo modello qui che è un ottimo defibrillatore manuale cosiddetto con l'accensione molto facile ma la cosa più importante è che abbiamo un bel monitor nel quale possiamo vedere un monitor multiparametrico tutti i parametri visuali del paziente e la traccia elettrocardiografica grazie alla quale noi riusciamo a capire la presenza di eventuali aritmie e qualora siano presenti aritmie cosiddette defibrillabili riusciamo attraverso il cavo la cosiddetta defibrillazione quindi il ripristino di una traccia vitale per il paziente. Questi parametri siete in grado di mandarli direttamente al pronto soccorso, al dottore? Esatto, c'è una cosa molto molto bella di questo defibrillatore qui che riusciamo ad eseguire un elettrocardiogramma direttamente al domicilio del paziente e riusciamo a inviare la traccia fatta direttamente all'UTIC di Branca parlando telefonicamente poi con il cardiologo ci dice la diagnosi esatta e tutti gli eventuali provvedimenti che possiamo prendere se portarlo a Branca oppure centralizzarlo in un DEA di secondo livello come Perugia. Ci sono anche kit per quanto riguarda la respirazione invece? Assolutamente sì, abbiamo tutto un kit per la respirazione per ventilare il paziente dal classico occhialino dal nasino che possiamo utilizzare fino alle maschere con i vari frazioni di ossigeno fino al kit di intubazione e ventilazione del paziente. veramente è super completa, alcune volte anche troppo però purtroppo tutte le volte che andiamo in qualche evento in incidenti stradali e non si sa mai cosa si può trovare e essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione è assolutamente vitale per il paziente. In questi ultimi anni le ambulanze si sono dotate anche di strumentazioni di alto livello in particolare l'ecografo pocket che è di fondamentale importanza per la stratificazione del rischio del paziente che noi andiamo a soccorrere perché il personale formato in maniera dedicata può eseguire delle diagnosi semplici ma per patologie minacciose per la vita e quindi indirizzare i percorsi di centralizzazione o comunque eseguire un orientamento diagnostico a domicilio e poter lasciare a casa un paziente, non trasportarlo in ospedale o rientrare preallertando che il paziente traumatizzato ad esempio ha del liquido libero in addome che quindi si presuppone abbia una rottura di milza ad esempio che quindi è necessario avviare già tutti i percorsi che lo porteranno poi alla conferma diagnostica e alla sala operatoria quindi con uno strumento ormai l'ecografo è diventato sono ecografi che hanno un'altissima performance con una dimensione che sono dei dispositivi tascabili ma hanno un'alta performance e ci consentono di fare una prima diagnosi ed escludere delle patologie tempodipendenti già sul territorio oltre a questo che cosa abbiamo? oltre a questo un altro dispositivo che vogliamo farvi vedere è un video laringoscopio che ci permette di gestire le vie aeree il laringoscopio è lo strumento che ci serve per l'intubazione orotracheale quando il paziente non è in grado di respirare autonomamente si posiziona un tubo nella trachea del paziente tramite un laringoscopio se però il paziente ha una conformazione del collo o una via aerea particolarmente difficile questa laringoscopia diretta con laringoscopio tradizionale può essere una manovra difficile invece adesso ci sono degli strumenti che hanno delle fibre ottiche che ci permettono di visualizzare la via aerea durante il posizionamento del tubo e quindi non ci sono praticamente situazioni che non riusciamo a gestire sul territorio anche perché noi siamo personale adeguatamente formato ma non siamo anestesisti rianimatori non abbiamo l'expertise di anestesisti che stanno in sala operatoria e magari eseguono 10 intubazioni orotracheale al giorno quindi per chi ha meno volume di casistica è molto importante avere dei dispositivi che aiutino perché mantenere alta la nostra performance per noi è più difficile e questo dispositivo direi che ci consente di essere molto sereni nell'affrontare questa eventualità e ogni ambulanza è dotata di un video laringoscopio Per quanto riguarda il presidio di Gubbio Guaglio Tadino abbiamo due mezzi che lavorano H24 un'ambulanza medicalizzata quindi con un medico presente H24 e un'ambulanza infermieristica inoltre in supporto a queste due ambulanze dato il numero eccessivo e abbondante degli eventi abbiamo una postazione al vecchio presidio ospedaliero di Gubbio e un'ambulanza infermieristica che lavora a 12 ore H12 dalle 8 alle 20 Ovviamente l'emergenza si fronteggia con i macchinari con i presidi ma soprattutto con le persone Esatto, le persone sono molto importanti l'equipaggio di 118 lo ricordo è un equipaggio estremamente formato dove l'infermiere gioca un ruolo cardine perché si può trovare in situazioni dove il medico non è presente e autonomamente deve gestire situazioni anche ad alto rischio e potenzialmente fatali per il paziente quindi tengo a precisare che il ruolo dell'infermiere nel corso del tempo ha acquisito una professionalità non indifferente tanto più l'infermiere cosiddetto di 118 ha un bagaglio culturale e professionale non indifferente prima di salire in ambulanza ed eseguire tutti i vari eventi che può gestire esegue in maniera importante tutta una serie di corsi che vanno dal trauma, dal defibrillatore all'avanzati quindi ha un bagaglio culturale non indifferente autonomamente, ripeto, può gestire una situazione ad alto rischio Il paziente una volta giunto al pronto soccorso salta tutta la fase del triage e viene direttamente condotto nella sala emergenze dove viene gestita la prima fase del soccorso del codice giallo o rosso Questa è la nostra sala emergenze del nostro ospedale che ha la capacità di gestire contemporaneamente due codici rossi a due postazioni indipendenti entrambe dotate di monitor defibrillatore, monitor multiparametrico scialitiche, aspiratore, fonte di ossigeno e di gas abbiamo degli armadi con una dotazione strumentale e di farmaci appunto autonoma nelle due postazioni abbiamo un ecografo multidisciplinare di alta fascia abbiamo la possibilità di utilizzare videolaringoscopio ultimamente siamo stati dotati anche di un videobroncoscopio che dovremo cominciare a mettere in funzione per eventuali disostruzioni delle viere abbiamo il massaggiatore automatico, pompe infusionali insomma una dotazione strumentale tecnologica di alto livello e questa è la sala rossa o sala emergenze dove viene gestita la prima fase del soccorso del codice giallo-rosso il triage viene eseguito a questo punto direttamente dalla sala emergenze quindi il paziente salta tutta la fase di attesa chiaramente abbiamo un bancone con due postazioni computer dove possono essere immessi dati eseguite le richieste di laboratorio le richieste degli esami strumentali un accesso privilegiato verso la radiologia quindi il paziente che deve essere condotto in TAC ha un percorso dedicato mentre per le radiografie semplici del torace dell'addome dei segmenti osteoscheletrici c'è un apparecchio portatile che viene direttamente condotto dal tecnico radiologo qui nella sala emergenze e l'esame radiologico viene eseguito senza necessità di spostare il paziente quindi questo è lo spazio dell'emergenza e della reanimazione ultimamente ci siamo dotati anche di una cosa importantissima che è un carrello per l'emergenza pediatrica che è organizzato secondo un sistema colorimetrico in base al peso del bambino noi abbiamo direttamente la possibilità di accedere al cassetto relativo al peso del bambino dove troviamo il materiale necessario già suddiviso per peso quindi se è un bambino di 12 kg apro il cassetto del color giallo e ho gli accessi venosi del giusto calibro i tubi endotracheali del giusto calibro le cannule, tutto quello che ci serve e materiali per pediatrici sia in termini di sfigmomanometri di sonde saturimetriche tutto quello che è necessario è organizzato in quest'area della sala emergenze nel carrello pediatrico inoltre abbiamo anche un riscaldatore per pazienti che è un altro strumento molto utile che serve per i pazienti in ipotermia sia per condizioni ambientali sia ipotermia legate a delle condizioni di sepsi di trauma e questo appunto è lo spazio operativo fondamentale del soccorso dell'emergenza dopodiché il paziente una volta stabilizzato può accedere invece a delle aree di sosta che sono ugualmente magari monitorizzate sia in quest'area antistante la sala emergenze sia nell'osservazione breve o medicina d'urgenza oppure se ha necessità di un ricovero in ambiente specialistico viene ricoverato nei reparti di decenza o in terapia intensiva o trasferito in un altro ospedale se viene fatta diagnosi di una patologia che necessita di una centralizzazione in un DEA di secondo livello come per esempio necessità neurochirurgiche cardiochirurgiche o di emodinamica che sono le uniche tre fondamentalmente situazioni in cui il nostro ospedale non è adeguato per l'assistenza perché ci sono reparti specialistici solo nei due ospedali di secondo livello della regione che sono Perugia e Terni l'osservazione breve intensiva è il cuore del pronto soccorso è la struttura di degenza breve che accoglie i pazienti per 36 ore massimo e che si può prolungare poi in degenza in medicina d'urgenza nella stessa struttura e che permette al medico di pronto soccorso di adottare la famosa terza scelta perché il paziente al termine della valutazione di pronto soccorso può essere ricoverato nei reparti di degenza dimesso oppure trattenuto in osservazione breve perché l'osservazione clinica e la ripetizione dell'esame clinico degli esami ematici e gli esami strumentali sono di fondamentale importanza a volte per arrivare alla diagnosi di quadri che non sono diciamo così gestibili in 4-6 ore di gestione di pronto soccorso e questo spazio nel nostro ospedale si compone di 6 posti letto è un open space con 6 posti letto tutti monitorizzati in maniera centralizzata e abbiamo a disposizione un ecografo multidisciplinare dedicato ogni postazione ha una fonte di ossigeno una fonte di aspirazione e ultimamente possiamo accogliere anche delle degenze di medicina d'urgenza che è diciamo lo scalino immediatamente superiore all'osservazione breve che ci consente di fare dei brevi ricoveri dei nostri pazienti che hanno delle patologie specifiche da medicina d'urgenza come possono essere dei traumi i pazienti con sepsi severa pazienti con delle ischemia cerebrali transitorie che non vengono ricoverati per esempio al centro ictus o problematiche che non necessitano di una degenza prolungata in ambiente medico chirurgico ma che possono essere gestiti con l'intensità di cura e l'expertise del personale dedicato dell'emergenza L'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino è un ospedale DEA di primo livello quindi fa parte della rete dell'emergenza territoriale di questa regione che cosa significa DEA di primo livello? Significa che questo è un ospedale in base al DM70 un ospedale che oltre a pronto soccorso ha tutta una serie di servizi unità operative che consentono la gestione non solo di patologie di base ma anche di patologie tempo dipendenti come nel caso di un infarto infatti oltre alla cardiologia c'è un'unità di terapia intensiva coronarica la rianimazione la stroke unit oltre a vari servizi di diagnostica come la diagnostica per immagini che è dotata di tutte le tecnologie necessarie per diagnosi non solo di base ma anche tempo dipendenti come la TAC poi la risonanza magnetica tutta la diagnostica radiologica ed ecografica un servizio di laboratorio analisi di anatomia patologica più tutte le branche specialistiche chirurgiche quindi a partire dalla chirurgia generale l'oculistica l'ortopedia qui afferiscono tantissime situazioni traumatologiche non solo da questo territorio ma un po' anche da tutta la regione questo è un bacino di utenza molto ampio e fin dal primo soccorso sul territorio il nostro personale è in grado anche grazie a tutte le tecnologie presenti sull'ambulanza di poter fare diagnosi abbastanza precoce oppure sospetti di diagnosi e gestire fin dall'inizio il paziente anche nei casi in cui sono necessarie delle centralizzazioni presso l'idea di secondo livello questo ospedale quindi questo pronto soccorso attraverso anche il 118 gestisce circa 27.000 accessi all'anno con l'emergenza covid il presidio ospedaliero ha dovuto riadattare i propri spazi per garantire protezione e sicurezza a pazienti e personale è un obbligo di tutti i pronto soccorsi e i dipartimenti d'emergenza garantire dei percorsi separati per i pazienti con sospetto covid o con covid accertato e questo è garantito nel nostro ospedale per i pazienti a bassa intensità di cure con dei container in cui vengono o delle stanze di isolamento in cui vengono gestiti i codici minori in cui i pazienti fanno il tampone poi se il tampone è positivo eseguono dei percorsi dedicati o se il tampone è negativo entrano nel percorso comune mentre questa saletta è stata una sala che è stata ricavata in uno spazio che precedentemente era dedicato ad altro concepita come una sala di rianimazione una sala rossa per i pazienti positivi o sospetti e quindi è dotata di tutta la strumentazione necessaria per le manovre di emergenza dal monitor defibrillatore un ventilatore che è in grado di fare sia la ventilazione invasiva che non invasiva un carrello dell'emergenza dotato di tutti i farmaci e la strumentazione necessaria per gestire le emergenze e l'ecografo multidisciplinare e questa stanza di isolamento poi ha diciamo viene il paziente viene liberato da questo isolamento se il tampone è negativo invece se il tampone è positivo viene ricoverato nel reparto di degenza ordinaria qui nel nostro ospedale o trasferito in una terapia intensiva dedicata al covid se necessita di una terapia intensiva dopo un adeguato confronto col collega rianimatore che viene a gestire con noi in questa sala il paziente se ha bisogno di un consulto da parte dell'anestesista rianimatore quindi questa è una sala autonoma che ci consente di non dover utilizzare la sala emergenza per pazienti che possono essere infetti musica 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 musica